C'è un altro mondiale di basket che è iniziato venerdì 25 agosto con l'Italia in campo. Oltre alla nazionale di Gianmarco Pozzecco, la rappresentativa over 70 è scesa in campo a Mar della Plata in Argentina nei World Maxi Basketball Championship che si concluderanno il prossimo 3 settembre. Della selezione azzurra fa parte anche il Nissena Aurelio Armatore. Il cestista nisseno, che è anche presidente del Cusn Caltanissetta, sta brillando in Argentina insieme ai suoi compagni che, dopo l'esordio vincente contro i padroni di casa, hanno anche battuto il Cile, piazzandosi al primo posto del girone D, accedendo alla fase successiva dei mondiali. Il presidente degli over 70 è Giorgio Papetti, ex giocatore di Milano negli anni 60 e 70, con le due squadre di Serie A e ideatore del Museo del Basket. Agli ordini del coach Cesare Lanella, altri due ex giocatori della palacanestro Milano degli anni 70, Geremia Giroldi e Marco Veronesi. E poi Gianni Trevisan, Giorgio Moretuzzo, Ferruccio Gabelli, Gabriele Camorani, Davide Bottura, Claudio Grasso, Carlo Gallana, Giovanni Stefani, Roberto Guasconi, il Nissena Aurelio Armatore, Marco Santonati, Guido Lorenzetti di 84 anni, Stefano De Marchi e Maurizio Tonella.